Promuovendo ricerca e innovazione tecnologica, anche la filiera edile va convertita allo sviluppo di soluzioni ecosostenibili e rispettose dell'ambiente. Un obiettivo condiviso da Comune e Camera di Commercio che questa mattina hanno siglato un protocollo d'intesa rivolto alle aziende campane per diffondere la cultura della green economy. Nell'occasione è stato presentato anche il prototipo di edilizia eco-compatibile realizzato dal Cesvitec e denominato B-Camp che sarà installato in formato reale in una delle piazze della città. Sarà utilizzato come punto di riferimento per incontrare le aziende, offrire informazioni e soprattutto come luogo di formazione. Con questa collaborazione, con questo primo modello che metteremo probabilmente a Piazza Garibaldi, stiamo vedendo gli ultimi dettagli, potrà servire come punto di partenza perché poi sul nuovo edificato e sul riqualificato si possano inserire questi elementi di eco-building, quindi di costruzione che abbiano attenzione alta al tema della sostenibilità ambientale. È fatto con materiali ecosostenibili, è un vero prototipo che non costa molto di più di una casa normale che può rappresentare un volano di sviluppo per quelle imprese campane e napoletane che si attrezzeranno per offrire sul mercato anche queste opportunità. L'obiettivo è quello di mettere al centro della città la realizzazione di questo modulo sperimentale con l'obiettivo di farlo diventare un punto informativo. Per quanto riguarda le politiche del Comune, tutto ciò che attiene alle edilizie sostenibili, ma anche all'apporto della Camera di Commercio rispetto a tematiche di questo tipo coinvolgendo il mondo delle imprese. Il progetto B-Camp si inserisce nel più ampio piano di azione del Comune sull'energia sostenibile e mette in pratica l'attività di servizio alle imprese dell'ente camerale. Creare le condizioni di cui la Camera di Commercio si fa carico per diffondere e animare nel convincimento degli imprenditori tutte le opportunità di essere imprenditori, ma imprenditori responsabili che stanno sul pezzo, che stanno aggiornati sui tempi attraverso progettazioni che noi portiamo in accompagnamento di edilizie ecosostenibili.